Le cose che si vede dall'alto hanno un effetto straordinario. Sono affezionato moltissimo io alla zona del soccorso. Sono nato e cresciuto qui, non mi sono mai spostato. Un posto dove io mi sento a casa è la piatta del soccorso. L'immagine che porto dentro sono i giardini di via Marx, dove questi bambini di ogni etnia diversa giocano insieme, accomunati dalla stessa lingua e non hanno veramente nessun tipo di limite e di barriera. Se il soccorso fosse una canzone, lo vedo nella canzone di Shakira, Waka Waka, perché è una canzone dove vedo tanti colori, tanta cultura e mi fa ricordare l'Africa. Da via Milano abbiamo deciso di trasferirci. Abbiamo pensato che ci serviva un ufficio più grande. Questo è successo dopo un anno e mezzo che abbiamo aperto l'ufficio e che abbiamo iniziato l'attività del Sipobas qua a Prato. La cosa più bella di questo quartiere è che non manca niente, ci sono molti culturali. Abbiamo gli elvanesi, gli italiani giustamente, i pakistani, i cinesi. Ognuno porta un po'. A me fa piacere se entri dentro il mio bar, come portate i pakistani, qualche regalo, i cinesi e io ho messo sempre lì, in vitrina. A me fa piacere.